Un traguardo importante perché la collaborazione oggi tra i giovani non è cosa semplice, soprattutto metterli insieme e soprattutto trovare tanta passione e tanto spirito di collaborazione tra diverse entità, tra diverse esigenze territoriali, quindi davvero un grande risultato. Supporto fondamentale perché i giovani rappresentano il futuro, rappresentano quelle che sono le problematiche vere dei territori, quelle che ormai noi adulti forse abbiamo un po' preso sotto gamba perché appiattiti dalla politica di ogni giorno.